Vuoi sfidare Goro, eh? Non eri obbligato a lottarci adesso. Sei tanto ansioso di essere annientato. Non sarò io a essere annientato. È così. Sei un perfetto idiota, con la stoffa dell'eroe. Puoi proteggere i tuoi amici. Purtroppo è una pia illusione. Verranno annientati. Subito dopo che Goro ti avrà distrutto. Allora, qual è il problema? Come vuoi. Per quanto sia assurda la tua richiesta, consentirò. Chiedo solo il diritto di sfidare il vincitore del combattimento. Ho un altro scelto da me. Nel posto e nell'ora scelti sempre da me. Per il finale di Mortal Kombat. Senz'altro, amico. Non sono d'accordo. Troppo tardi, Lord Raiden. Le regole sono molto chiare. Voi come dite? Quel che è fatto è fatto. Che cosa ci hai detto? La mia unica scelta. È il nostro torneo, ricorda? Mortal Kombat. E noi combattiamo. Logico. Uno di loro si è finalmente deciso. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Dovevi essere già caduto.